Trasferta di Leonforto è vetata domenica per i tifosi della Nissa. In un comunicato, la società biancoscudata dichiara che a seguito dell'ordinanza emessa dalla prefettura di Enna, viene fatto assoluto divieto ai tifosi nissiani residenti nella provincia di Caltanissetta di acquistare biglietti per assistere alla partita leonfortese-Nissa del campionato di eccellenza. Tale ordinanza è stata emessa sia per la concomitanza dell'altra partita definita calda tra Enna ed Acragas, sia per la notoria accesa rivalità tra la tifoseria organizzata e la Nissa e quella di Enna ed Acragas. Nell'emettere tale ordinanza hanno avuto probabilmente peso anche gli scontri tra le tifoserie avvenuti in questo campionato nelle partite tra Acragas e Nissa all'esseneto e più recentemente tra Nissa ed Enna e Palmintelli. Dispiace veramente tanto che la Nissa non possa avere il supporto dei propri tifosi in questa importante trasferta al Leonforte e ci auguriamo che ciò non accada anche nelle prossime partite, dichiara Davide Volpe, dirigente della società e responsabile dei rapporti con le istituzioni.